Sabato 7 e domenica 8 giugno si svolgerà a Petina la 45esima festa della Fragolina di Bosco, l'evento enogastronomico che ogni anno si svolge tra i bellissimi monti alburni, attirando un sempre crescente numero di visitatori proveniente anche da fuori regione. La Fragolina di Bosco di Petina è particolare per la sua qualità, essendo un prodotto del sottobosco esclusivamente naturale, di difficile produzione, in quanto la zona di crescita è limitata e in quantità tale da non riuscire a soddisfare il mercato, diversa per questo dalle fragole di serra che vengono commercializzate in grandi quantità dalla Piana del Sele. Ogni anno gli stand presentano i prodotti tipici della zona, liquore e marmellata di fragole, castagne e more, vini locali, castagne al rum, funghi, miele, olio d'oliva, salumi, formaggi e tanti altri derivati. Suggestivo inoltre è il percorso gastronomico all'insegna degli antichi sapori e delle eccellenze locali. Gli ospiti potranno gustare poi la fragolata e la maxi crostata alle fragoline di bosco. Immancabile è la degustazione della spaghettata, desert tipico su cui viene versato uno sciroppo di fragole. La possibilità di passare due giorni all'insegna della natura tra sentieri, boschi, aria pulita e sorgenti, per semplici passeggiate, escursione o sport all'aria aperta, rende la festa della fragolina di bosco un'occasione unica per i giovani e per le famiglie intere.